VELÈ è una speciale crema silossanica per ottenere velature a effetto patinato. Applicare a pennello o a rullo una o due mani dello speciale fondo universale di preparazione diluito al 20-25% con acqua e attendere fino a completa essiccazione avvenuta. Nel frattempo addittivare velè finitura con gli appositi tinters nel colore e nella quantità prescelta miscelandolo accuratamente. A questo punto intingere l'apposito guanto velè nel prodotto e iniziare a distribuirlo con movimenti circolari più o meno ampi in base all'effetto desiderato. Quando il guanto inizierà a scaricarsi, intingerlo nuovamente, avendo l'accortezza di ripartire a 30-40 cm di distanza dalla precedente passata, onde evitare eccessivi sormonti. A lavoro ultimato sarà possibile, qualora lo si desiderasse, ripetere l'operazione per accentuare il tono colore o per sovrapporre un'altra tinta e ottenere così splendide finiture e pluricromatiche. Velè è disponibile anche in versione dorata o argentata. Sempre addittivandolo con gli stessi tinters e seguendo la stessa tecnica applicativa si otterranno effetti ancora più ricchi ed eleganti. Facile e veloce, velè è una decorazione davvero alla portata di tutti. Vele è fabbricato nel rispetto della normativa CE per le concentrazioni di sostanze volatili organiche.